Siamo sempre stati abituati a vedere solo questi due oggetti visivi delle mappe all'interno di Power BI, la mappa a colori e la mappa con le bolle, che rappresenta, possiamo andare a rappresentare dei dati all'interno del nostro globo, quindi se andiamo ad esporre dei dati che lavorano su più stati ha un senso utilizzare questo tipo di oggetto. Ma se devo andare a rappresentare un singolo stato che nel nostro caso tendenzialmente interessa magari vedere solo l'Italia, servirebbe un visual che ci permetta di delimitare solo l'Italia in modo che anche impatto visivo sia più semplice andare a leggere questo tipo di visual. Su questo ci è venuto in aiuto che hanno aggiunto un terzo visual all'interno di Power BI e se non lo vedete ancora a breve vedremo anche come andare ad attivare questo nuovo oggettino. Eccolo qua, è la mappa a forma che ci permette attraverso le sue proprietà di andare a selezionare lo stato che più ci interessa, quindi possiamo lavorare con l'Italia e qui vediamo le chiavi che possiamo andare ad utilizzare per essere poi riconosciute dalla mappa. Quindi se clicchiamo qua possiamo andare ad utilizzare il nostro attributo con il nome italiano che vedete qui, qui vedete anche come mettere i trattini che così magari non vi sbagliate, oppure il nome in inglese oppure il postale che hanno messo qua. Oppure anche con questi codici qua, questi qua sono tutti i campi chiavi che vengono riconosciuti dal oggetto visivo di mappa a forma. A questo punto possiamo anche decidere di cambiare il modo in cui si vede, a mio avviso la più carina è la Markator, questa qua. Possiamo anche decidere che quando facciamo un click facciamo uno zoom oppure un de-zoom automatico, ci sono diverse proprietà con cui possiamo lavorare. Poi possiamo giocare con le sfumature oppure non sfumature, ad esempio qui giochiamo con una tonalità singola di colore, con due colori dal minimo al massimo. Oppure usiamo le sfumature personalizzate per andare a giocare come meglio crediamo. Sotto abbiamo il minimo, al centro e il massimo, quindi quando mi avvicino al centro si colorerà maggiormente il verde. Se qui vado a mettere un 500 vedete che do un'impronta maggiore sul verde perché da 0 a 100 più mi avvicino al 500 più diventa verde. Quindi è veramente molto molto semplice da utilizzare, possiamo anche gestire le aree vuote con un colore differente così visivamente possiamo dare un'impronta migliore. E niente, l'oggetto è tutto qua. Dove troviamo questo tipo di oggetto? Lo troviamo all'interno dei nostri visual, eccolo qua. Se non lo vedete è questo oggettino qua, forme mappa, qui sono quelle a colori e qua c'è quella a bolle. Se non vedete ancora questo oggettino basterà andare su file, opzioni impostazioni, opzioni, sul menu che compare andiamo su funzionalità in anteprima e ecco qua oggetto visivo forme mappa. Se noi andiamo ad attivare questa opzione e poi riavviamo il nostro Power BI desktop comparirà l'oggettino mappa forma. Se questa lezione è stata il tuo aggredimento lasci un bel pollizione in su, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, se invece vorrei sostenermi magari penso a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è sotto al video così potrai accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, a tutti i contenuti e anche agli allegati che sono disponibili, sono tantissimi. Oppure se vorrei supportarmi in altro modo magari guarda la descrizione, premi il bottone altro sotto al video così compri una descrizione con tante cose che puoi utilizzare per supportarmi. Ad esempio io utilizzo CyberGhost come VPN quando voglio andare a navigare in modalità sicura, nella descrizione trovate il ref che vi porta all'acquisto di CyberGhost così mi viene riconosciuto qualcosa. Oppure se dovete acquistare un antivirus, l'Office ad esempio 2019, 2021, un Windows, anche lì trovate un link che vi porta a un sito sicuro dove poter acquistare licenze a buon prezzo e riconosciute anche se vi dovessero fare un controllo legale nel caso foste una azienda. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!